buongiorno buonasera oggi farò un video sulla scuola quindi tanto questo video è doveroso nel senso di risposta uno a Serafino Massoni un video sulla scuola ora su youtube Serafino Massoni è uno youtuber non so molti lo conoscono diciamo che non è una propria reaction ma certamente è una reaction diciamo dal punto di vista di categoria perché Serafino Massoni è un ex preside che ovviamente non è in pensione buon per lui beato lui io avrei messo la firma quando andavo in pensione in questi due o tre anni di didattica a distanza ma mi andavo in pensione a me comunque ha detto aveva fatto un video tutte a scuola e in un commento aveva scritto anche guarda tutte a scuola è un problema perché ci sono tanti colleghi che sono vicini lei è un insegnante bisogna andare a scuola a guadagnarsi il pane la pagnotta anzi la pagnotta ora che queste cose me le dia un'ex preside io mi rimango basito se me le dice un fornaio va bene il fornaio la pagnotta e va bene ma appunto primo io sto guadagnandomi la pagnotta anche a casa perché sto preparando per domani poi noi domani si va lo sbaraio io sono l'unico dimagrito a Natale come vuoi dire io sono l'unico in Italia che è riuscito a dimagrire sono sti panni, sti cenci che mi stanno anche larghi quindi non ho passato le belle vacanze domani vado a scuola quali sono le indicazioni del ministero? cosa ha fatto il ministero? cioè io sono servitore dello Stato domani vado a lavoro come è il mio dovere servitore dello Stato questo non mi impedisce però di criticare lo Stato di criticare non tanto lo Stato ma alcuni alcuni altri servitori dello Stato che secondo me lo Stato lo dovrebbero servire un po' meglio e non entro in polemiche con il ministro eccetera perché ovviamente la ex ministra Zolina l'hanno massacrata per i per i banchi a rotelle ma a me le banche a rotelle onestamente non me ne è mai fregato tanto cioè non è una questione di mammaia entusiasmata erano le scuole che potevano decidere o meno se prendere i banchi a rotelle nella mia scuola non ci sono i banchi a rotelle non ci sono non ce n'è uno di banchi a rotelle quindi poi la gente poi legge i giornali pensa che le scuole italiane siano piene di banchi a rotelle che scorrascono tra i corridoi si creano queste falsi miti leggende ma non è questo il punto quindi risponde a Serafino Massone e indirettamente anche a Yasmina Panni che ha fatto un video su Promessi Sposi su Manzoni ovviamente critico io ovviamente c'è chi sta è come Coppie e Battali so che il paragone farà ma a parte che oggi è che sa chi ha Coppie e Battali vabbè non so chi c'è oggi Ferragnez che ne so Ferragnez ma che ne so vabbè viene Coppie e Battali vabbè fate voi andate a cercare su Wikipedia che hanno Coppie e Battali anche la canzone di Bologo dicevo perché Manzoni è uno scrittore cattolico giustamente può stare sulle scatole Manzoni ma Manzoni è veramente cari italiani voi siete finiti dentro i Promessi Sposi non ve l'hanno detto ma ci siete finiti tutti dentro perché questa è la sezione delle grida manzoniane Milano 1600 descritta da Manzoni perché le indicazioni che arrivano al ministero assolutamente strane mettiamola così un alunno che è stato che ha fatto la dose vaccinale che è venuto in contatto con un positivo può venire a scuola con la mascherina FFP2 poi chi la dà questa mascherina la dà la scuola questa mascherina perché la devi da te scuola io questo non ho capito se è la mascherina vabbè dettagli mi distrava un po' pensare a questi dettagli vabbè arriva a scuola con la sua mascherina FFP2 ok non ce l'ha non la trova che fa? non entra in classe che non ce l'ha FFP2 allora io la devi didattare a scuola questo creerà dei problemi secondo me arriva in classe e si mette in autosorveglianza si mette di con lo specchio come sto sta una favola sto proprio bene sta una favola ma queste sono indicazioni serie? ma ditemi se sono indicazioni serie no se sono indicazioni serie parliamoli queste sono le grida manzoniane se è per manzoni è per proprio io a un certo punto mi sono ritrovato dentro i promessi sposi non so non ciò non so come ci sono finiti dentro i promessi sposi come ci sono finiti dentro i promessi sposi perché sono un professore italiano e io in realtà faccio filologia relativa detto questo detto questo per questo in realtà i due video di Yasmina Pani e di Serafino Massoni in realtà si uniscono in realtà io Yasmina Pani è una fan di Leopardi io sono anche un fan di Leopardi però ho riscoperto Manzoni tardi a scuola lo odiavo Manzoni lo hanno fatto odiare a scuola però rileggendolo io ci ho ritrovato una descrizione di Italia degli italiani perfetta nessun altro autore ha descritto l'Italia degli italiani come Manzoni poi ci torneremo su Manzoni quindi per questo si uniscono qui rientro l'argomento scuola noi domani lunedì si va in classe io non sono positivo per ora non sono entrato sono più murato vivo come una mummia etrusca quindi nei miei libri e tutto questo mi chiedo ma mi chiedo caro Ministro Bianchi ho fatto un video sulla penna rossa se ha senso insegnare oggi me lo richiedo ancora di più ha senso insegnare oggi ha senso veramente farsi un mazzo così in queste condizioni veramente Ministro glielo chiedo a lei perché mi conto stare a Roma e muovere armati esistenti perché molti colleghi sono in quarantena o contagiati dal covid quindi voi dite aprite le scuole sì apriamole ma chi le apre cioè se una scuola ci fossero dieci professori contagiati chi le apre queste scuole il vigile urbano è da aprire no qui mi sembra come la sindrome di Hitler nel bunker che muove armati inesistenti e non ci sono queste abbiamo solo le finestre cioè mi chiedo Ministro Ministro senza entrare in lei che ha fatto in questo anno che è ormai un anno che credo che sia il ministero quindi non può dire se ho arrivato ieri è colpa di Lazzolina quando è arrivato lei c'era già il covid c'era già la pandemia quindi queste cose non è che è arrivata tra capo e collo come quando arrivò nel 2020 io sono dal 2020 21 a 22 siamo al terzo anno Ministro non avete sdoppiato le classi non avete messo arrivatori non avete fatto niente e questo va detto signor Ministro non stiamo a dire ma cioè la vostra difesa è stata che nelle scuole non ci siamo contagiati a Natale la gente si è contagiata fuori dalle scuole o ci state prendendo un giro perché voi sapete è certo non si usa le scuole allora la gente non si contagia nelle scuole siamo seri? è una cosa seria? cioè non possiamo di queste cose e quando si arriva le scuole però non è solo le scuole la gente salirà sugli autobus perché per andare a scuola non è che tutti sono a un metro dalla scuola si aprirà un circuito di incontri diciamo la gente i ragazzi sono pipipisti contagiano fuori dalla scuola ma se uno è contagiato fuori dalla scuola e arriva a scuola contagiato perché magari ha sintomatico contagia con gli altri signor ministro diciamoci frescherie stavo di tanta cosa ma non è possibile ma secondo me è possibile signor ministro ma secondo me è proprio possibile io lo dico proprio da core è possibile perché se metti 25 studenti in una classe piccola è possibile ma secondo me è proprio possibile perché dovete sdoppiare classi le dovete sdoppiare classi di 10 persone al massimo avete avuto un anno e avete fatto un tubo poi ovviamente io onestamente accetto anche che gente parli della scuola senza averne minima cognizione di caos i presi sono a collasso sono sull'orlo della crisi di nervi perché ovviamente vi hanno supplicato in tutti i modi di almeno non dico di organizzare qualcosa perché non avete organizzato niente domani parlerà Draghi che ci dice Draghi a questo punto io sono di antiche origini greche antiche non non gli spartani c'era una legge gli spartani dicevano una cosa molto semplice poche leggi ma rispettate noi siamo il contrario c'era un'eddo degli spartani che una delegazione spartana va ad Atene e a teatro e si siede nella sua postazione la sua postazione a un certo punto un vecchio sta cercando posto e tutti gli atenesi gli ridono sul bus a un certo punto arriva nella sezione spartana e tutti gli spartani si alzano e lo fanno sedere a questo punto scatta un applauso di tutti gli atenesi per gli spartani e gli spartani dicono ma scusate ma cosa ci applaudite ma voi avete delle bellissime leggi ma non le rispettate noi abbiamo poche leggi tipo se arriva una persona anziana la facciamo sedere ma la facciamo sedere non abbiamo leggi che poi non applichiamo a Sparta l'ha consentito rubare tra l'altro però se ti beccavano a rubare ti beccavi altre mille bastonate vabbè lasciamo perdere però il concetto logico è quello noi siamo in una situazione opposta a delle grida manzoniare dove abbiamo un'infinità di leggi che poi essendo anche contraddittore tra di loro è ovvio che la gente non sa più che fare perché non gli puoi mandare l'autosorveglianza bella l'autosorveglianza mi autosorveglio io ho tre vaccini quindi non sono uno vaccino io sono stravaccinato però in questo caos mi riallaccia il video che ho fatto su assenso ancora oggi c'è l'idea che ci facciavano insegnanti è della campagna di Russia armiamoci e partite poi qualche cosa succederà mettiamo un santino mettiamo un piccolo budda mettiamo un cip rotto siamo in una situazione di emergenza ed è un'emergenza che dura da anni la situazione di emergenza può durare un mese due mesi tre mesi qualcuno ha detto ma nei altri paesi Brunetta ha detto ma negli altri paesi europei non hanno chiuso le scuole ma negli altri paesi europei non ci hanno la reazione a finestra Brunetta scusami ci hanno forse dei mezzi un pochino meglio perché qualche soldo negli altri paesi europei ce l'hanno investito a scuola non parlo degli stipendi degli insegnanti quindi loro si possono permettere di fare cose che noi non ci possiamo permettere di fare dovete guardarvi nella vostra coscienza e dire a cosa abbiamo fatto in quest'anno per la scuola niente andremo al lavoro e faremo quello che potremo fare nei limiti delle nostre possibilità ma gli insegnanti non sono non sono non facciamo miracoli non so Gesù che Padre Pio non fa i miracoli neanche i presi fanno i miracoli tutto quello che dovevate fare scrivi tutto non avete fatto niente la sanità è al collasso la gente fa la fila ai tamponi chi va in quarantena non sa quando ne esce perché le asda sono al collasso questo è quanto questa è la realtà fattuale tutto il resto sono solo delle merite chiacchiere che non servono a niente dopo l'anno di pandemia siamo ancora in situazioni di emergenza rispondo a questi due video che ovviamente non dico video di Yasmina Pani perché ovviamente lei non gli risponde in realtà gli risponderò con un altro video però la invito a riflettere su Manzoni sull'attualità di Manzoni Manzoni è attualissimo io mi sembra di essere un personaggio e poi mi si sposi ora mi vestirò da uomo del secente sul video di Serapino Massoni invece qualche cosina da dire ciò perché molti colleghi sono contagiati la scuola certo è un diritto è ovvio che lo studio è un diritto ma il diritto deve essere garantito non c'è è sempre non è solo l'insegnante che lo deve garantire c'è una struttura dietro il soldato più coraggioso del mondo l'esercito più scarcagnato del mondo e non farà un cavolo perché oggi come oggi non te tu sei coraggioso se ti arriva un carro armato sopra ti schiaccia anche Achille non siamo più a tempi della guerra di Troia e sono i mezzi dietro che fanno la guerra non tanto il soldato coraggioso col pugnale tra i denti che fai col pugnale tra i denti se c'è un carro armato davanti a coltelli il carro armato cosa diamo quindi vabbè passo e chiudo questo video di sfogo l'ho dovuto fare perché mi stava qua questa cosa mi stava qua l'ho dovuto fare